Sulla regione nei prossimi giorni avremo condizioni di tempo abbastanza dinamiche. Per quanto riguarda la giornata di sabato ci aspettiamo un aumento della nuvolosità con delle piogge sparse, in genere deboli o moderate, intermittenti, forse anche qualche locale temporale al pomeriggio. Per quanto riguarda la serata e la notte di sabato dovremo avere un miglioramento con un'attenuazione delle piogge. Tempo discreto buono al mattino del giorno di Pasqua, domenica, con un ceno in prevalenza poco nuvoloso, in giornata poi probabilmente maggiore variabilità al pomeriggio con probabili rovesci e temporali sparsi, le temperature saranno più o meno stazionarie con massime intorno ai 19-20 gradi. Per quanto riguarda invece il giorno di Pasquetta, lunedì, ci aspettiamo al mattino anche una giornata tutto sommato discreta o buona, in giornata un po' più di nuvole sulla zona montana e tempo ancora variabile sulla costa. Sono probabili comunque anche lunedì pomeriggio dei rovesci e dei temporali sparsi dovute all'aria fredda in quota e quindi a un po' di instabilità. Tempo ancora instabile martedì mattino con piogge temporali, poi miglioramento con aria più fredda e secca. La settimana successiva sarà caratterizzata da temperature più basse rispetto ai giorni precedenti. Buona Pasqua a tutti!